Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. E questa sera siamo ospiti del sindaco di Cibiana, Mattia Cosetti, che ringrazio per l'ospitalità. Buonasera. Buonasera a lei e grazie per questa intervista. Ecco, Cibiana è uno dei 30 comuni che a giugno andrà il voto. A metà della provincia rinnoverà i consigli comunali, tra i quali appunto Cibiana. Lei ha avuto già la fine dei suoi primi cinque anni da sindaco, quindi comincerei proprio con un piccolo escurso di quello che è stato fatto in questi cinque anni. Naturalmente ringraziando i cittadini per la fiducia che mi diedero cinque anni fa. Naturalmente è stata un'esperienza veramente forte per me, un'esperienza di grande crescita attraverso la quale ho potuto conoscere meglio sia la vita amministrativa che la stessa vita anche politica di quello che è questo territorio di Cibiana di Cadore e non solo. Quello che c'eravamo un pochettino ripromessi di fare noi come amministrazione era quella di portare un pochettino di sviluppo a Cibiana attraverso la realizzazione di qualche nuova opere pubblica e riportare un pochettino di dialogo con le istituzioni di alto livello, in particolare con la regione e con il governo. Questo naturalmente è quello che siamo riusciti a fare. In particolare mi piace ricordare che nelle opere pubbliche siamo riusciti a portare ad attuazione, sarà di prossima ultimazione, lo svincolo di Venas di Cadore, un'opera che noi avevamo promesso ai nostri cittadini che non è un'opera nel territorio del comune di Cibiana ma è un'opera che aiuta fortemente i cibianesi perché darà la possibilità finalmente di affrontare quello svincolo in totale sicurezza e permetterà a mezzi di grande dimensione provenienti da Cortina, come per esempio le Corriere o i Billici, di effettuare la manovra per l'ingresso a Cibiana, cosa che oggi non è possibile e prevede che questi mezzi facciano tanti altri chilometri in avanti verso Tai di Cadore dove devono effettuare la manovra per effettivamente entrare nel nostro territorio. Ci tengo a ringraziare per questo appunto la collaborazione in particolare del comune di Valle di Cadore che è stato molto attento alle nostre esigenze ma soprattutto della regione del Veneto, grazie alla quale siamo riusciti a finanziare questa opera che era tanti tanti anni che Cibiana richiedeva. Il progetto che noi abbiamo portato ad attuazione è un progetto del 2008 che era stato realizzato al tempo da Veneto Strade. Attraverso un percorso molto importante di dialogo con questa società siamo riusciti ad arrivare alla realizzazione di questa struttura e questo sicuramente è un elemento molto positivo per i nostri concittadini cibianesi. Tuttavia avevamo anche promesso altre cose come il rifacimento dell'illuminazione pubblica il cui precedente impianto era un impianto risalente addirittura agli anni 60. Abbiamo montato un nuovo impianto di luce pubblica che fa risparmiare di molto le casse del comune perché è quasi completamente composto da luci a led che consumano molto poco e che danno un aspetto completamente diverso al paese, in particolare nelle frazioni dove abbiamo adottato delle strutture che si inseriscono perfettamente all'interno di quello che è il contesto storico delle nostre frazioni creando un ambiente anche particolarmente piacevole per la visita del paese durante le ore serali visita che accade spesso, soprattutto in stagione, per i tanti ospiti che vengono qui a Cibiana a visitare i nostri meravigliosi murales. Oltre a questo abbiamo portato a compimento anche la nuova viabilità di Cibiana di Sotto che era necessaria, necessaria perché anche lì le manovre che dovevano affrontare i nostri ospiti i nostri concittadini ma soprattutto anche i mezzi per i servizi come i mezzi per la raccolta di fiuti o anche i mezzi che devono servire la cittadinanza si trovavano veramente in grossa difficoltà grazie alla piccola bretella che abbiamo realizzato a Cibiana di Sotto adesso finalmente si può affrontare la frazione in totale sicurezza passando all'esterno dell'abitato non essendo più costretti ad affrontare quella che è la piccolissima viabilità interna sicuramente non sufficiente per questi mezzi e molto più adatta per un passaggio pedonale appunto sempre dei nostri ospiti che vengono a visitare i murales e dei nostri concittadini che vivono la frazione. ci sono state comunque notevole novità anche per Cibiana molto dinamiche dal mio punto di vista soprattutto per il fatto che il dialogo con gli enti istituzionali e di nuovo ritorno a ringraziare la regione del Veneto che è stata al nostro fianco per questo importantissimo risultato siamo riusciti ad ottenere il bando Borghi mi piacerebbe spendere due parole per questo bando perché è stato un momento molto entusiasmante per la nostra comunità quando all'inizio di questa storia l'assessore Giampaolo Bottacinchi è sempre stato mio valido alleato mi telefonò per dirmi di partecipare con il nostro comune al bando Borghi nella linea A che avrebbe ad assegnato ad un solo comune del Veneto, ad un solo borgo del Veneto un tesoretto di 20 milioni ero particolarmente titubante, devo dire la verità non avevo se vogliamo quella prospettiva che invece l'assessore aveva già probabilmente avuto e per questo mi aveva fatto questa proposta ho avuto la sua collaborazione, ho avuto la collaborazione della cittadinanza e della mia squadra in particolare che è stata al mio fianco in questo percorso molto molto complicato e grazie ad una serie di studi in un laccio stretto che per la prima volta c'è stato tra il pubblico e il privato siamo riusciti a presentare un progetto che non è arrivato primo ma è arrivato nella rosa dei primi quattro progetti in Veneto e questo per noi è stato estremamente entusiasmante perché ha voluto dire che Cibiana ha fatto passi importanti verso il suo sviluppo, verso il futuro e questa sua crescita è arrivata agli occhi, alle orecchie delle istituzioni di alto livello tanto è vero che quando poi si è presentata la possibilità di partecipare alla linea B di questo importante bando del PNRR lo abbiamo vinto molto facilmente ora abbiamo a disposizione 1.600.000 euro per la rigenerazione di Cibiana rigenerazione che verrà attraverso l'arte, attraverso la cultura identitaria del nostro borgo attraverso il turismo e attraverso la formazione in un rapporto molto stretto che vedrà sia la cittadinanza e il comune di Cibiana con i suoi collaboratori sia da un'altra parte una serie di professionalità esterne che sono venute a studiare il nostro borgo e sono intenzionate, hanno già steso un progetto e un calendario di attività che porteranno alla crescita dello stesso in particolare mi piace ricordare anche la collaborazione con le università c'è un'importante collaborazione con lo Uav che verrà a studiare il nostro borgo e a prenderne esempio come struttura di un borgo antico rinascimentale che ancora oggi grazie alla sua architettura molto particolare può sicuramente essere materia di studio universitario e in più abbiamo avuto anche un importante rapporto con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia che già è venuta nel nostro territorio con i suoi studenti per fare delle indagini, per fare dei video per fare degli studi che mi piacerebbero fossero implementati in questo prossimo percorso che faremo ma non è finita perché grazie al Bando Borghi linea B sono arrivati 840.000 euro non per il comune ma per i cittadini per tutti coloro che volevano aprire attività nel nostro territorio oppure potenziare le attività esistenti so che sono stati presentati una decina di progetti e quindi presumibilmente essendoci un tetto massimo di finanziamento di 75.000 euro per progetto ho ragione di pensare che avremo speso presumibilmente anche tutta quanta questa cifra e questa è veramente una notizia confortante per tutti noi per tutta la nostra cittadinanza perché vuol dire che questo borgo a dispetto di quello che è il movimento purtroppo dello spopolamento dei territori montani è un borgo che vuole crescere che vuole svilupparsi che vuole dare nuovi servizi alla cittadinanza che vuole dare nuove risposte che vuole essere presente anche per la residenzialità facendo in maniera tale di accogliere nuove famiglie ci tengo a precisarlo nel bando borghi ci sarà anche un'importante manovra per aiutare i nuovi residenti a Cibiana coloro che volessero ristrutturare il nostro meraviglioso patrimonio edilizio per costruire qui la propria casa per portare qui il proprio nucleo familiare e noi siamo pronti ad accogliere questi cittadini a braccia aperte e soprattutto ad aiutarli economicamente una risposta di questo tipo è già arrivata a Cibiana con la nuova gestione del taulà dei boss abbiamo una famiglia di ragazzi giovani di 26 anni che sono saliti da Eraclea per venire a gestire la nostra struttura e non solo hanno partecipato anche loro a questo bando borghi imprese e hanno intenzione di portare delle migliorie che studieremo insieme per il taulà dei boss di estendere l'offerta della nostra meravigliosa struttura al centro del paese che ricordo non è solo un ristorante ma è anche un polo culturale e soprattutto è il nuovo museo di Messner all'interno del nostro piccolo villaggio il campo base che noi abbiamo chiesto a Messner con forza che Messner ha portato per creare un collegamento importante con il nostro museo nelle nuvole sulla cima del Monterite per fare in maniera tale che le decine di migliaia di visitatori che ogni anno arrivano al Monterite per visitare il bellissimo museo di Reinhold scendano anche in paese e possano vivere e fruire dei nostri servizi questo è stato sicuramente un traguardo importante che ancora una volta consolida il rapporto con il noto alpinista che nonostante l'età merita un elogio sicuramente perché ha voglia ancora di credere nel territorio e di investire nel territorio e Cibiana è a stretto braccetto per continuare assieme a lui in questo importantissimo percorso c'è stato oltre a questo un miglioramento anche per quello che riguarda l'offerta nella visita dei nostri murales abbiamo implementato un nuovo sistema per la visita digitale dei murales così mi piace chiamarla una sorta di audioguida che si può avere attraverso il proprio telefonino con la quale se ci dovessimo trovare in assenza di guide si può fare una visita in totale autonomia in totale intimità ed avere comunque tutte le informazioni sui 62 dipinti murali che si possono avere anche da una guida noi naturalmente suggeriamo sempre la visita con la guida perché è molto più stimolante è molto più bella ma ci piaceva offrire anche questo servizio ai cittadini attraverso un'app attraverso un sito internet che permetterà loro anche di fruire della nostra offerta della nostra offerta ricettiva e dei ristoranti del territorio l'app è attualmente in implementazione ma dovrebbe essere pronta già per quest'estate e con questo piccolo bagaglio di cose che abbiamo realizzato qui a Cibiana con grande onore naturalmente dell'aver potuto lavorare per questo territorio meraviglioso per questa cittadinanza straordinaria stiamo cominciando a fare i nostri ragionamenti verso il futuro ci sono ancora tante cose che vanno prese per mano per questo periodo si ricandiderà? sì posso già annunciarlo mi sto confrontando già con la mia squadra che mi ha sempre fortemente sostenuto e anche con qualche cittadino per incrementare la nostra capacità la nostra forza d'azione ed essere ancora più presenti sul territorio ci presenteremo alle prossime elezioni stiamo stilando in questi giorni un programma elettorale come dicevo ci sono tante cose che vanno prese per mano sicuramente la nostra viabilità che va messa in sicurezza parlando della viabilità esistente ma bisogna anche seguire quello che è lo sviluppo dello svincolo e assicurarsi che sia pronto per tempi in tempi brevi soprattutto in previsione delle olimpiadi che arriveranno e che porteranno una ricaduta importante a livello turistico anche per il comune di Cibiana Cibiana deve essere presente quando qui ci saranno le olimpiadi e già si sta muovendo con importanti rapporti con la fondazione Cortina che saluto e ringrazio naturalmente oltre a questo ci saranno dei lavori importanti da fare sul nostro patrimonio e sul nostro cimitero dove ci sono delle messe in sicurezza in particolare sulla pavimentazione che vanno imperativamente fatte al più presto così come ci sono tante altre piccole migliorie da fare sulle nostre strutture ma noi siamo pronti stiamo preparando le nostre idee proprio in questo momento e a breve saremo lì a presentarle alla nostra cittadinanza ecco e con questa previsione insomma di quello che potrà essere il futuro prossimo di Cibiana siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione è stata una piacevole chiacchierata capendo un po' appunto il punto di quello che è stato fatto e anche alcune prospettive per il futuro di questo paese che è piccolo ma è uno dei gioielli del bellunese io non posso che ringraziare il sindaco Mattia Gosetti per l'ospitalità e darvi appuntamento ad una nuova puntata di La Voce delle Istituzioni buona serata